Si intitola Imprenditori, si nasce o si diventa, il percorso di formazione dedicato agli Under 35 è proposto dall'equip diocesana del progetto Policoro, insieme alla pastorale giovanile della diocesi di Molfetta. Ecco gli imprenditori di domani. Sono loro che tra qualche tempo potrebbero essere a capo di realtà imprenditoriali motivate non solo dal profitto, ma anche dalla voglia di costruire un'impresa che sia attenta ai bisogni degli altri perché qui a Molfetta, sotto lo sguardo di Don Tonino Bello, imparano e apprendono ragazzi tra i 18 e i 35 anni in cerca di certezze per i loro sogni. Si intitola Imprenditori, si nasce o si diventa, il percorso di formazione in 10 tappe inserito nel progetto Policoro della diocesi. Che cosa deve avere un vero imprenditore? Fiducia in se stesso, prima di tutto. Fiducia in sé, fiducia nel gruppo, nella comunità di appartenenza e volontà di mettersi in gioco. Poi le strade del Signore sono infinite, quindi qualsiasi altra benedizione arrivi deve essere capace di coglierla. Dare voce ai sogni che ognuno di loro cova nel proprio cuore, fornire dritte giuste per dare corpo a un domani che adesso è solo immaginato. Non si nasce imprenditore, si può avere un'attitudine, certamente. Quello che noi cercheremo di fare è di tirare fuori quell'attitudine, di tirare fuori magari il talento che ci può stare e cercare di avviarli a questa scelta. Essere imprenditori vuol dire anche affrontare le difficoltà senza lasciarsi andare allo sconforto. Io penso innanzitutto rimotivandosi, andando all'origine, cercando di fare memoria di quei momenti in cui uno ha mosso i primi passi, ricordando magari quelli che erano i suoi desideri e cercando di prendere spunto dai buoni testimoni. Un esempio? Quale potrebbe essere un buon testimone? Beh, ce ne sono tante di belle testimonianze. Noi siamo qui a Morfetta, nell'Episcopio di Don Tonino Bello. Il primo che mi verrebbe in mente è proprio lui, quindi vi direi Don Tonino. Noi siamo qui a Morfetta.